È stato un po' di movimento perché l'office che attenevamo è arrivato il nostro amatissimo Amadeus e Giovanna Civitillo, da poco saranno loro a tagliare il nastro, a dare di via ufficialmente a questa ultima parata che celebra i 630 anni della carne male di Virginia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.